C'è qui con noi anche stasera come prea aperto così chiude il professor Julio Peruzzi dell'Università di Padova che noi l'abbiamo alletto da noi come nostro consulente scientifico al quale passo subito la parola che vi presenterà l'ospite di questa sera. Ringrazio ancora per questo invito, mi date sempre un'eccessiva enfasi sulla mia funzione e io sono contento di poter dare una mano a iniziative come questa che appunto anche stasera sono partecipate e come già ho notato altre volte sono in qualche maniera lo specchio del fatto che c'è una grande domanda di divulgazione scientifica in questo paese, di capire come vanno le cose, una domanda che si connette anche con la voglia di capire il mondo in cui si vive e purtroppo l'offerta non è sempre adeguata alla domanda per cui il numero di iniziative che vengono fatte in questa cosa sono sempre troppo poche rispetto a quelle che uno auspicherebbe ci fosse e la gente sarebbe interessata a ascoltare. Stasera appunto questo ciclo di quest'anno è un ciclo appunto complicato quando vennero da me a fare due chiacchiere i vari organizzatori responsabili di questa bellissima iniziativa e io dissi che certo la matematica è una matematica come si dice sempre una cosa che lascia un po' di paura, c'è chi ha paura della matematica è un titolo di uno dei primi libri che cercava ormai qualche anno fa di mettere in luce che in realtà la matematica non deve far paura, è uno strumento che poi in realtà utilizziamo comodemente. Ebbene stasera appunto c'è Alessandra Celletti che ho avuto il molto piacere di conoscere ormai tre anni fa, che il tempo passa, perché Alessandra Celletti ha scritto insieme a Ettore Perozzi un bel libro che essenzialmente è il titolo della conferenza di stasera, un libro di divulgazione di un settore di matematica che è la meccanica celeste, l'applicazione della matematica allo studio di quei moti che sembrano ordinatissimi, ma ci spiegherà come in realtà sono ordinati fino a un certo punto, che riguardano i corpi celesti nel sistema solare prima di tutto, poi altre applicazioni. Ed è molto interessante questo fatto da sottolineare che appunto la scienza sembra occuparsi certe volte di cose molto astratte, quasi metafisiche, l'interesse matematico per la descrizione dei moti celesti di Salina Montità. Quando si parla comunemente di sistema aristotelico-tolemaico in realtà si parla di due cose distinte. Aristotele aveva una cosmologia, cioè cercava di capire com'era l'ingranaggio che giustificasse, tra l'altro in maniera molto approssimativa a quei moti. Il sistema tolemaico e tutti i suoi sviluppi erano la matematica, molto ma molto più raffinata, basata su alcuni principi generali che oggi non sono più validi, tutti i moti devono essere frutto di composizioni di moti circolari, perché il moto circolare è perfettissimo, però era appunto una curiosità umana che già all'epoca però si incontrava con applicazioni importanti che riguardavano l'uso dei moti celesti per la scansione del tempo, per decidere alcuni momenti precisi durante l'anno, per definire un calendario che fosse comune e che in qualche maniera ha riferimento per civiltà. Quindi in realtà già a quell'epoca servivano per la navigazione, avevano applicazioni, però era appunto un interesse per queste cose. Ancora oggi la meccanica celeste è un settore molto matematico, quindi molto astratto apparentemente, ma che poi ha delle applicazioni di grande interesse e anche di grande prospettiva, perché se è vero che il genere umano riuscirà a non morire o a non ammazzarsi per un po' di tempo, da un certo momento in poi dovrà prendere in considerazione che la Terra non è più un posto dove può stare, non perché l'ha distrutta, l'ha resa inospitale, ma perché probabilmente appunto si potrà arrivare a momenti in cui proprio la nostra stella non funzionerà più come oggi, per esempio. Ora, la meccanica celeste permette anche di andare nello spazio e quindi ci racconterà Alessandro queste cose. Quindi una sottolineatura di questo fatto che le cose che sembrano apparentemente più astratte, che spesso sono state sviluppate inizialmente un po' per fascinazione, un po' per curiosità, in realtà prima o poi hanno applicazioni importanti. Questa dell'applicazione è diventata una specie di ossessione oggi, ma è un'ossessione sciocca perché appunto se io finanzio solo ricerche che hanno un'applicazione che io vedo o intravedo, quindi a breve termine, 4, 5, 10 anni, non faccio ricerca scientifica, non avrò prospettive di crescita né scientifica né pure applicata, se volete, tecnologica. Quindi è una sottolineatura di un campo molto affascinante che Alessandro Accendetti appunto ha affrontato sia come scienziata ma anche come divulgatrice e che però appunto nello stesso tempo è un campo affascinante che dimostra quanto importante sia che i nostri governanti abbiano sensibilità per queste ricerche anche quando non intravedono, non capiscono, spesso non capiscono le possibilità che gli sviluppo e le applicazioni che hanno. Seconda osservazione, poi mi taccio, nel nostro Paese noi viviamo un deficit che non è solo di offerta di eventi come questi, quindi sempre grande rispetto, stima e affetto per questo circolo gallineo che qui a Mondiano fa questo tipo di sforzo per fare serate di questi giorni. Ma è anche un Paese dove per troppo tempo l'Accademia ha ritenuto che la divulgazione scientifica non fosse una cosa che interessava gli scienziati. Questo non avviene da tutte le parti, non è che bisogna sempre andare a vedere a mezzo come sono bravi e noi siamo un po' fessi, però è vero che per una serie di ragioni che non riguardano solo l'Accademia ma anche il contesto di cui si sono sviluppate, le università, altre nazioni italiane, il credito che la stima, il riconoscimento, l'autorevolezza che ha avuto la cultura scientifica rispetto ad altre parti della cultura nel nostro Paese è stato di fatto che a divulgare fino a un certo momento, diciamo fino a vent'anni fa non si occupavano gli scienziati. Ecco, ancora oggi il numero di scienziati che ha questa sensibilità e ritiene che il suo lavoro è quello di fare ricerca, è quello di fare didattica a buon livello e se non fai buona ricerca non fai buona didattica, questo è un dato di fatto, anche se poi si può fare tutte le permutazioni così, però certamente uno dei compiti di chi fa scienza, degli scienziati è quello anche di porgere, di far capire, di far crescere le culture in questo senso. Allora, gli scienziati così come Alessandra Celetti non ce ne sono tanti nel nostro Paese e quindi un ulteriore merito diciamo alla redattrice che avete e abbiamo qui stasera. Ricordo appunto che il libro di Alessandra Celetti di Ettore Perozzi fu selezionato nella cinquina del Premio Galileo nel 2008 e che appunto ieri c'è stata la quinta edizione del Premio Galileo è un tentativo, è una piccola goccia in un oceano di ignoranza, diciamo così, però un tentativo che va proprio verso un'estensione delle possibilità che la divulgazione scientifica nel nostro Paese si sviluppi si sviluppi sensibilizzando le case elettrici, sensibilizzando il pubblico, sensibilizzando gli scienziati a farsi divulgatori e quindi questa triplice funzione cerchiamo di svolgerla, sapete che il Premio Galileo ogni anno coinvolge 2.500, 3.000 ragazzi diversi perché sono una quarta liceo superiore in ognuna delle province italiane quindi potenzialmente sono 104, ieri le hanno votate 99 e quindi sono 2.500 ragazzi che comunque almeno una sfogliata, non ho detto che tutti leggono i cinque libri che devono votare, però insomma una sfogliata di questo genere non la danno. Chiudo ricordando con una certa tristezza che è stato punto di riferimento per me personale e diciamo anche per il Paese, un paio di figure sono state il punto di riferimento per la divulgazione scientifica. Uno è un grande vecchio che appunto tutte e due se ne sono andate nel giro 10 giorni tra il 16 e il 26 di aprile, uno è un grande vecchio quindi diciamo aveva fatto la sua vita in ogni caso che è Giuliano Torraldo di Francia che è morto appunto il 26 di aprile scorso ma aveva quasi 95 anni Giuliano appunto e l'altro è Enrico Bellone che invece se ne è andato improvvisamente e non aveva 73 anni e che tutti conoscete perché era direttore delle scienze. Credo che appunto ricordarli in un momento come questo in una chiusura di un ciclo e quest'anno che purtroppo appunto ci trova tutti un po' più poveri diciamo, perché queste erano due figure che comunque hanno svolto e alcune appunto nel caso di Bellone svolgevano un'attività proficua, era un punto di riferimento, era uno stimolo importante in un settore come questo che spero che cresca e iniziative come queste servono proprio per questo. Quindi grazie, la parola a questo punto. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare gli organizzatori e il professor Peruzzi per questa introduzione al cui mi associo al 100% e anzi con molta fatica devo dire che non ripendo le questioni che ha sollevate il professor Peruzzi per non entrare subito, non andare subito fuori tema, altrimenti cominciamo a parlare di quanto poco si fa, dice, divulgazione scientifica in Italia e di quanto poco è valutata purtroppo la scienza in Italia, comunque questo magari se ne parla dopo, altrimenti a mezzanotte si fa ancora che discorre. Allora, invece entro subito nell'argomento di oggi, cioè stabilità e caso del sistema solare, spero che si senta fino giù con il microfono, va bene, ok. E inizio subito a commentare questa immagine che ho messo di copertina, perché è un'immagine molto bella, questa è Saturno con i suoi anelli, Saturno è scuro e gli anelli sono illuminati, questo perché la sonda che ha fotografato questa immagine, la Cassini-Origin, cioè una sonda NASA-ESA, è passata dietro a Saturno nel momento in cui il Sole veniva eclissato da Saturno, quindi Saturno lo vediamo scuro perché il Sole è dall'altra parte, ma il Sole poteva comunque illuminare gli anelli, quindi c'è questo effetto estremamente bello di questa immagine, appunto del globo della sfera di Saturno scura, eclissata e l'intorno invece dei satelliti illuminati. Diciamo che in questa immagine tranquillamente possiamo dire che ci sono tutti gli ingredienti di studio della meccanica celeste, Saturno è un sistema molto complesso, ha tanti satelliti, ha un sistema di anelli schiacciati ai poli, insomma gli anelli si spostano, ecco ci sono tante, ci sarebbero tante storie da raccontare su Saturno, però quello di cui vogliamo parlare oggi è quale sarà il futuro del sistema solare? Saremo qui ancora da 5 miliardi di anni o 200 milioni di anni o 5 milioni di anni? Qual è il tempo di vita del sistema solare? Per rispondere a questa domanda dovremmo passare attraverso diversi stati, prima darò un'introduzione perché non tutti magari ricordano come è composto il sistema solare, poi è un sistema in ampia evoluzione, quindi si scoprono nuovi oggetti non ogni anno ma ogni giorno, questa mattina ho dovuto fare un aggiornamento del numero dei pianeti extrasolari scoperti perché era variato rispetto a 4 ieri per dire, quindi è un sistema in alto aggiornamento. E quindi dopo questa prima introduzione su come è composto il sistema solare parlerò appunto degli scopi della meccanica celeste che parte dallo studio di un problema particolare, quello che viene chiamato il problema dei due corpi. Non è difficile da comprendere perché si chiama il problema dei due corpi perché uno dice sia devo studiare il sistema solare che come vedremo è composto da centinaia di migliaia di oggetti, come posso fare? Allora, ritorno a metodo Galileiano, parto dal sistema più semplice, cioè dico studio, se devo vedere che fine fa la Terra, studio solamente la Terra sotto l'azione gravità del Sole e questo si chiama problema dei due corpi perché i protagonisti sono due, un dialogo a due, la Terra e il Sole. E su questo poi faremo alcune considerazioni che ci porteranno a parlare di Laplace, del determinismo di Laplace, un punto focale della meccanica celeste e della scienza in generale. E poi cercheremo di complicare questo modello, quindi parleremo dai due corpi a tre corpi, quindi sulla scena, a questo punto sul palcoscenico ci mettiamo tre oggetti, che ci mettiamo? Ci mettiamo il Sole, chiaramente, la Terra perché è quello di cui vogliamo vedere la stabilità e poi ci mettiamo Giove, perché Giove? Perché è il più grande oggetto del sistema solare, lo diciamo subito, così mettiamo dei punti fissi fin da adesso, quindi i personaggi principali saranno Sole, Terra e Giove, Giove non è grande quanto il Sole ma insomma dopo il Sole è il più grande oggetto del sistema solare. E a questo punto entreremo nel vivo dell'argomento, cioè parleremo di caos e qui dovremo fare una parentesi, cercheremo di vedere quale sarà la risposta a questa domanda, cioè se il sistema solare sia ordinato o caotico. Sullo sfondo vedete una delle immagini di campo profondo prese dal telescopio spaziale Hubble che ci riporta indietro di circa 13 miliardi di anni, cioè le origini dell'universo. Allora, come è composto il Sole? Noi sappiamo che è il sistema solare. Il sistema solare è composto dal Sole più una serie di pianeti e questi pianeti sono dotati sostanzialmente di due movimenti. Il movimento intorno al Sole, quello che noi chiamiamo l'animo terrestre, che cosa fa in un anno alla Terra? Fa un giro intorno al Sole. E quindi questo si chiama movimento di rivoluzione, si usa questa parola. E poi un secondo movimento è quello della rotazione, cioè girare intorno a se stesso, girare intorno a se stesso in questa maniera. E' quello che noi, il giorno terrestre, chiamiamo giorno terrestre, quindi il giorno terrestre è una misura della rotazione, 24 ore per fare una rotazione completa. Un anno per fare invece una rivoluzione intorno al Sole. Tutti i pianeti, tutti i progetti del sistema solare sono dotati di questi movimenti, è rotazione e rivoluzione. Come vedremo tutti i pianeti, si muovono praticamente sullo stesso piano, che viene chiamato piano dell'eclittica e questo oggetto qui non è più un pianeta, è Plutone, lo dirò più avanti, è stato degradato al ruolo di pianeta nano. E adesso cominciamo a vedere chi sono i pianeti partendo dal Sole e allontanandoci dal Sole. Quindi il primo oggetto che è il protagonista per eccellenza, il regista, diciamo, di tutto il sistema solare è il Sole, chiaramente. Il Sole è una stella, per fortuna, di media grandezza, che orbita, per fortuna, in uno del braccio aspirale della Galattia. È circa, per fortuna, metà della sua vita. Perché questo è per fortuna? Perché altrimenti non saremmo più a parlarne. Perché se fosse una stella un po' più grande, allora non ci sarebbe l'acqua sulla Terra, perché ci sarebbe troppa radiazione, troppo caldo, non ci sarebbe acqua, quindi non ci saremmo. Se fosse più piccola l'acqua sarebbe ghiacciata, quindi non ci saremmo stare. Ma insomma, per una di due serie, diciamo, fortunata di coincidenze, il Sole è una stella di media grandezza che si trova in uno dei bracci aspirali della periferia della Via Lampia, a metà della sua vita, cioè 4 miliardi e mezzo di anni. Che vuol dire? Che vuol dire? Che ne rimarranno altri 4 miliardi e mezzo da vivere. Che vuol dire? Tutto ha una durata, no? Anche le stelle hanno un tempo di vita. Addirittura si dice che anche il tempo stesso abbia un tempo di vita, cioè che a un certo punto possa terminare il tempo, che è un concetto molto difficile, almeno per me, da digerire. Ma parliamo del Sole. Il Sole è a metà della sua vita perché? Il Sole è come un palloncino, eh? Come un palloncino. Prendiamo questo, un palloncino, una cosa diciamo che si contrae e si espande, si contrae e si espande. Il Sole passa tutta la propria vita facendo questa cosa. Si contrae e poi si espande. Quando si contrae, immagazzina energia e poi la rilascia quando si espande. E perché fa questo lavoro? Faticoso per una stella con un oggetto così grande? Perché deve trasformare l'elemento base da cui si parte, cioè l'idrogeno, attraverso questo rilascio di energia, lo trasforma in elio. Io non sono un chimico, però insomma queste sono nozioni basilarie e quello che mi stupisce è che il Sole non ha una massa sufficiente per trasformare poi l'elio negli elementi più pesanti, il carbonio, metabroglio, l'ossigeno, il ferro e così via. Si ferma lì, cioè si trasforma l'elemento più leggero, l'idrogeno, in elio. A un certo punto da 4 miliardi e mezzo finisce il carburante, diciamo, finisce questa energia che ha, ha trasformato tutto quanto in elio e a quel punto si espande e diventa quella che si chiama una gigante rossa. Ingloba Mercurio, da 4 miliardi del mezzo in cui il Sole improverà Mercurio. Prenderà Venere, probabilmente l'ammirà la Terra, non si sa, ma poi rilascerà tutta la radiazione nel sistema solare e poi alla fine si contrarrà lentamente e diventerà quella che si chiama una nana bianca, cioè una stella fredda e praticamente invisibile al resto dell'Universo. Questa è la storia del nostro Sole. Quindi, diciamo, adesso ci sarebbero due strade da prendere. Cosa vogliamo fare? Vogliamo decidere di avere un atteggiamento, diciamo, pratico. Il Sole rimane uguale per altri 4 miliardi e mezzo di anni, quindi andiamo a vedere se il sistema solare sarà stabile per i prossimi 4 miliardi e mezzo di anni. Dopo, diciamo, ha senso parlare di un sistema solare, dello stesso sistema solare che noi conosciamo dopo, dal mio punto di vista direi, no, anche se da un punto di vista più teorico, più matematico, potremmo parlare invece di un tempo di vita infinito e direi che il sistema solare esisterà per sempre, ammesso che questa parola, come dicevo prima, abbia senso, cioè che è lo stesso tempo che esista per sempre. Insomma, quello che vorremmo vedere, però, siamo un po' più pragmatici, andiamo a vedere, quello che vogliamo vedere è se il Sole, se il sistema solare, se la Terra continuerà a ruotare intorno al Sole, quindi continueremo per altri 4 miliardi e mezzo di anni a vedere tutte le mattine sorgere in Sole. Prima di lasciare questo, il Sole, però bisogna, diciamo, è impossibile non dire questa cosa, cioè il fatto che, come ho detto prima, il Sole trasforma l'idrogeno in elio. E allora da dove viene il ferro, per esempio, di questo oggetto che ho in mano, del telefonino che vede in tasca? Viene da stelle più grandi, molto più grandi del Sole, magari 20 volte la massa del Sole, che erano così grandi da potersi contrarre e poi espandersi e trasformare non solo l'idrogeno in elio, ma anche l'elio in carbonio, il carbonio in azoto, l'azoto in ossigeno, fino al ferro, fino agli elementi più pesanti. E siccome le stelle più grandi vivono di meno, questo accadeva solamente nelle prime fasi dell'universo, quando eravamo anche un po' più vicini, un po' più stretti. Arrivati a quel punto, anche quelle stelle esplodevano e lanciavano il ferro, lanciavano gli elementi più pesanti e li lanciavano nell'universo. E poi un po' di questo materiale è arrivato fino al nostro sistema solare, fino alla Terra. Quindi quando noi diciamo, noi stessi siamo fatti, abbiamo il ferro dentro, quando andiamo in un angolo e abbiamo il ferro, eccetera, o quello che tocchiamo è il ferro, noi stessi siamo polveri di stelle apposta per questo motivo. Perché quello che noi tocchiamo non è altro che l'esplosione di una stella nei primi stadi dell'universo. però adesso non parliamo più di cosmologie e di, diciamo, del sistema dell'universo, invece ci concentriamo sul nostro sistema solare. Il nostro sistema solare, cioè, partiamo dal primo pianeta che incontriamo in ordine di distanza dal Sole, cioè Mercurio. Adesso vediamo come sono composti questi pianeti, però più che vedere come sono composti la composizione geologica, quello che voglio sottolineare è più che altro quelle che sono le caratteristiche dinamiche di questi oggetti, cioè quelle che interessano dal punto di vista della meccanica celeste. Allora, Mercurio è un pianeta piccolo, molto vicino al Sole, è un pianeta roccioso, non ha satelliti, cioè un'esplosione termica molto grande, ed ha una particolarità dal punto di vista della meccanica celeste estremamente unica nel sistema solare, cioè, adesso lo dico in termini tecnici, per lo spiego, si trova in quella che si chiama una risonanza spinorbida trittua. Allora, che cos'è questo concetto che ricorre spesso nella meccanica celeste? Si spiega facilmente. Mercurio si muove attorno al Sole facendo un movimento di rivoluzione e allo stesso tempo un movimento di rotazione, così come fa la Tella. però Mercurio lo fa, diciamo, rispettando il ritmo di un waltzer. Perché un waltzer? Perché lui fa esattamente due rivoluzioni intorno al Sole e allo stesso tempo compie esattamente tre rotazioni intorno al proprio asse. Quindi fa due rivoluzioni e ruota tre volte. Pensate che questa precisione, questa precisione, cioè questo movimento, è preciso almeno fino alla quarta cifra decimale. Cioè, se uno guarda l'anno di Mercurio e il giorno di Mercurio, trova questo rapporto tre mezzi fino alla quarta cifra decimale. Personalmente lo trovo una cosa eccezionale, che un pianeta riesca a fare sempre questo waltzer intorno al Sole. E vediamo che è l'unico a farlo in questo modo, tre mezzi, perché ce ne saranno altri oggetti, ci arriviamo da un istante. L'anticipo subito è la Luna. La Luna è un altro... ma la Luna lo farà in maniera diversa. Mercurio è l'unico che utilizza questo ritmo, tre due. Poi passiamo da Mercurio, passiamo a Venere. Venere è un pianeta grande quasi come la Terra e sappiamo che ha questa densa atmosfera, riproga un effetto Serra, non ha satelliti ed è roccioso. Qual è la particolarità dal punto di vista dinamico? Una rotazione retrograna che vuol dire che se tutti i pianeti girano in questo verso, Venere gira in senso contrario, perché non si sa. Poi passiamo alla Terra, di nuovo pianeta roccioso con un satellite, roccioso con un satellite, la Luna, e la Luna di nuovo si ritrova in questa particolare configurazione. Allora, parliamo un attimo di questo, ci sarebbe da fare un discorso molto lungo su questo fenomeno che si chiama fenomeno delle risonanze e potete anche immaginare perché la sonanza con la musica è evidente. Allora, la Luna rivolge sempre la stessa faccia verso la Terra e questo è causato dal fatto che la Luna impiega 28 giorni per fare un giro completo intorno alla Terra e impiega 28 giorni per fare un giro intorno a se stessa. Adesso purtroppo il filo qua è corto quindi non posso fare il giro intorno al tavolo, ma insomma se facessi il giro intorno al tavolo guardando sempre il centro, farei un giro intorno al tavolo e allo stesso tempo vedreste che avrei fatto nello stesso tempo, se guardassi sempre il centro, farei esattamente un giro intorno a me stessa, come fa la Luna. Allora, questa si chiama risonanza sincrona, risonanza 1-1, risonanza sincrona, ed è un fenomeno estremamente comune nel sistema solare. È una sorta di un sepio che la maggior parte dei satelliti fa verso i pianeti ospitanti, non è solo la Luna a farlo verso la Terra, ma ci sono tantissimi pianeti, satelliti, che rivolgono sempre la stessa faccia verso il proprio pianeta. E quando ricordiamo il disco dei Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, adesso dobbiamo pensare che i Pink Floyd della meccanica celeste sicuramente non la conoscevano, perché se no non avrebbero mai intitolato un disco The Dark Side of the Moon, cioè il lato oscuro della Luna, perché il lato della Luna non ha mai un lato oscuro, ha un lato nascosto, quello che noi non possiamo vedere se non andando con le sfonde spaziali dall'altra parte e guardandolo, ma il lato nascosto della Luna è perfettamente illuminato dal Sole, quindi bisognerebbe dire a Pink Floyd di cambiare il titolo e cambiare il lato nascosto della Luna, piuttosto il lato oscuro della Luna. Allora, dove vi arrivano? L'ultimo pianeta roccioso, Marte, roccioso, piccolo e con pochi satelliti, c'era due, pochi o più di qualche centinaio di chilometri, Fobos e Decos, entrambi in rotazione sincrona, cioè entrambi si muovono sempre guardando Marte e non vogliono mai le spalle verso Marte. Ecco, qui finiamo la prima parte del sistema solare, questi sono quelli che si chiamano i pianeti interni, che hanno queste caratteristiche, sono piccoli, rocciosi e con pochi satelliti. Poi ci spostiamo verso i pianeti esterni e quelli saranno grandi, composti da gas, quindi non rocciosi ma gassosi e con tantissimi satelliti. Cosa c'è in mezzo? Allo spartiacco, una sorta di sorbetto astronomico, troviamo una fascia che si chiama fascia degli asteroidi, composta da centinaia di pochi, ve la faccio vedere in un filmato che, come dicevo prima, ho avuto dalla gestione fascia europea pochi giorni fa, sono oggetti rocciosi, delle dimensioni più strane, vedete qua, sono pochi chilometri, fino a un migliaio di chilometri, ruotano in maniera disordinata, insomma ce ne stanno talmente tanti che è difficile capire la loro conformazione e la loro dinamica. Però che hanno, diciamo, visto anche il ricordo di 150 anni in unità d'Italia, allora parliamo anche, diciamo che una delle glorie nazionali della meccanica celeste è Giuseppe Piazzi, un astronomo che lavorava per l'osservatore di Palermo e che nella notte del Capodanno del 1801, invece di andare a festeggiare, sava al telescopio, era al telescopio a guardare il cielo e scoprì cedere, cioè il più grande, il primo e il più grande degli asteroidi di questi oggetti che compongono un'intera fascia tra Marte e Giove. Vedete, qui in questa diapositiva ci sono i pianeti e questa è la vista dall'alto, mentre questa è la vista di piatto. Sono tanti oggetti, poi vi faccio vedere un'animazione per vedere come sono fatti questi oggetti, quindi adesso lasciamo il sistema solar interno e passiamo sull'esterno.